ciao a tutti ragazzi e benvenuti al nuovo video dell'impero delle tenebre eccoci qui con un altro unboxing sempre dedicato alla linea s di bundan world sangoku soketsuden il model kit della bandai made in china infatti si tratta di un sottolinea sottomarca in realtà non so bene come definirla un brand dedicato principalmente al mercato asiatico ma quello appunto dell'altra asia i giapponesi in un certo senso non sono proprio così aperti come si potrebbe credere e per alcuni prodotti anche per i videogiochi hanno la versione giapponese quella asiatica questo infatti non è un modello che trovate semplicemente nei negozi giappo si tratta appunto di una versione dedicata al mercato asian il ventiquattresimo della serie questo piccolino è legato appunto al nuovo cartone animato che comunque è possibile guardare in streaming direttamente sul canale di bundan info sia su youtube che sul sito ci sono i vari link per guardarlo così insomma il romanzo dei tre regni che è appunto uno dei capisaldi della letteratura asiatica soprattutto appunto per i cinesi ha influenzato molto anche le altre culture andando a creare soprattutto dynasty warriors poi anche molti altri manga e cose di contorno e questa saga appunto vede i gundam in versione sd prendere il posto dei personaggi del romanzo dei tre regni questo infatti è una versione di simai lo stratega diciamo dei v quelli dei way anche io ormai mi perdo nei sinonimi o meglio nei pezzi di storia perché infatti continuo ogni tanto a confondere i personaggi perché poi ce n'è davvero tantissimi e questo model kit vanta appunto party clear nere party gloss dorate ma più scure party clear rosse queste fanno parte del corpo principale il classico frame della serie infatti lo sprua è sempre il corpo del personaggio testivamente snodato questa cosa di avere uno spru in comune per tutti i modelli come un po' anche agliibo abbassa il costo soprattutto anche la difficoltà di produzione semplifica il montaggio qua ci sono giusto un paio di adesivi e soprattutto la cosa particolare la doppia espressione perché questo è il primo modello di tutti quelli che ho montato che ha la possibilità di cambiare la faccia come invece era consuetudine per i modelli della linea BB è un modello come avete visto con la scatola grande proprio perché contiene un bel po' di pezzi infatti questo destiny Gundam ha sia parti blu come abbiamo visto clear di diversi colori quelle grigie perché appunto non è bianco ma è un grigio è anche ben dettagliata la faccia molto bella per andare poi a chiudere ancora con delle altre parti nere però questa volta piene normali le ali poi sono in una versione sempre clear rossa e le parti nere per certi dettagli fanno diciamo nel suo insieme un effetto molto ma molto particolare questo vediamo di tenerlo così infatti questo modello ha una serie di sprue molto più variegata di quelli classici paradossalmente l'ho pagato lo stesso prezzo degli altri ed ha appunto più sprue ha una diversa tipologia di costruzione della testa che permette il cambio dell'espressione ruotando il pezzo perché oltre al corpo principale che comunque è molto valido ha sempre le stesse funzioni di avere il ginocchio mobile perché hanno appunto gli snodi nelle gambe mentre le braccia sono fisse sono quasi monopezzo e ha una cosa anche molto carina a mio avviso di assimmetria per il fatto che ha una parte appunto di mantello clear solo da un lato ci sono le ali che sono lievemente snodate perché infatti possono essere posizionate in diversi modi ma la cosa più bella è l'artiglio infatti l'arma può essere messa sul backpack quindi in versione diciamo di riposo oppure sganciata cambiata l'espressione in quella più cattiva col passaggio della memory nella testa e diciamo la sua trasformazione che cambia la mano in artiglio gigante così da renderlo diciamo la versione come si vede nel fumetto la versione cattiva e arrabbiata che travalica diciamo il suo potere mettendosi la memory in se stesso e non nell'arma come fanno tutti gli altri così da potenziare il suo braccio questa è una cosa molto carina come al solito il modello delle foto è una versione colorata ritoccata piena di dettagli colorati che purtroppo il modello base non ha però nel suo insieme è molto valido infatti il manuale poi come vedete è scritto anche in inglese anche il fumettino ha le scritte in inglese e anche l'anime ha le traduzioni in inglese quindi potete tranquillamente guardarlo leggerlo senza problemi è carino questo modello mi piace un sacco perché già di base il destiny gundam mi piace un casino proprio per il fatto che è molto tamarro per così dire aveva quel suo perché quella sua rabbia per così dire un po' come il god gundam di andare a combattere poi corpo a corpo di avere le ali due diversi assetti era molto carino e infatti questa versione di Simai lo rende uno dei appunto personaggi più carismatici per adesso che sono andato a costruire infatti questo è davvero un bel pezzo pieno di parti dettagliate di diversi tipi di plastiche così da avere un modello davvero ottimo un piccolo SD però riccamente dettagliato proprio perché le parti che lo vanno a comporre sono diverse sono appunto di plastiche diverse quindi la colorazione le sfumature dei pannelli sono date da quello e l'utilizzo delle plastiche clear con quelle gloss a me non dispiace affatto andandole a rifinire con un marker fine le parti gloss rendono discretamente e questo modello mi piace davvero un sacco è davvero davvero bello andiamo a leggere qua il suo piccolo disclaimer si mai si è guadagnato un posto nella mia collezione anche solo per il fatto che è bellissimo è davvero bello richiederebbe un bel po' di rifiniture perché i piedi sono tutti rossi mentre qua ti fa vedere che ha le parti bianche e così via però in tutto sommato è davvero davvero un gran bel modello quindi ve lo consiglio spero che questo video vi sia piaciuto spero che questi video in realtà vi abbiano anche fatto conoscere questa linea questa chiamiamola sottomarca della bandai che da noi comunque è poco pubblicizzata nonostante nei negozi italiani si possano ordinare si possano far avere si trovino online è difficile trovarli effettivamente se non su richieste è una cosa che un po' mi dispiace perché in confronto ai vecchi SD questi sono molto più semplici da costruire sono easy to build anche per appunto staccare i pezzi perché si sganciano al tocco perché hanno i gate già quasi pretagliati sono appunto belli perché hanno una conformazione di componentistica tra le diverse plastiche molto più incisiva di quelle quasi monocolore c'è comunque il bisogno dei ritocchi però ci sono i dettagli il molding è davvero ottimo e proprio per questo possono fare la gioia di un modellista grazie al loro design anche particolare infatti questa versione guerriero appunto stratega con il braccio gigante questa simmetria con il mantello il braccio gigante le ali lo sguardo cattivo mi piace un sacco proprio per questo sarà uno dei prossimi modelli che andrò a montare spero appunto che seguiate anche il blog imperodeletenebre.blogspot.com così da poter vedere poi anche la costruzione di questo piccolino quindi per adesso è tutto vi saluto e vi aspetto al prossimo video